I motori hanno rombato per due giorni, sabato e domenica scorsa da Agrigento, dove al mini autodromo di Villaggio Mosè si è corso il primo slalom Concordia. La manifestazione ha aperto ufficialmente la stagione automobilistica regionale. Nonostante la corsa non era competitiva in quanto prova generale del secondo campionato siciliano Axi Slalom 2011, nel circuito agrigentino sono stati 56 piloti ufficiali provenienti da tutta la regione che hanno gareggiato. Il campionato Axi, che prevede 13 appuntamenti, partirà il prossimo 20 marzo proprio dal Concordia Karting di Agrigento. Diversi gli appassionati che hanno assistito alle due giornate di motori, dove oltre alle verifiche tecniche dai bolidi, hanno ammirato le auto sfidarsi in pista alla distanza di due mangi da tre giri ciascuna. La gara è stata promossa da ASD Palatinus Motorsport di Capodorlando e dal comitato regionale Axi Sicilia. Girando tra i box abbiamo incontrato il pilota, nonché titolare dello stesso cartodromo e della scuderia Concordia Motorsport, Luigi Bruccoleri e il pilota Lorenzo Sardo di Sortino, che per il campionato difenderà i colori della scuderia agrigentina a bordo di una Radical RS 4006. Io sono Lorenzo Sardo, grandissimo amico del signor Bruccoleri, a cui devo enormemente ringraziamento per questo gioiellino di macchina che mi ho procurato per svolgere questa gara qui oggi. Non ci sono mai salito, grazie a lui che è il mio presidente l'anno scorso ha avuto un'opportunità di salire sulla Valdana Posortino ottenendo un buon risultato con un Formula 3000. Vediamo, questi sono i prospetti per l'inizio della stagione, magari sponsor permettendo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Alla luce dei risultati ottenuti nella stagione passata, quali sono le tue aspettative per il prossimo campionato? Guarda, abbiamo un bel numero di tesserati, siamo a quota 1000 e si presume che ci sia una media ogni gara di 60-70 macchine, che oggi considerando le diverse associazioni un bel numero. Particolarmente attento alla competizione anche il giovane pilota di Buseto Palizzolo, Giuseppe Gulotta che ha gareggiato con una fiammante monoposto Tatus Formula Master 2000, targata a campo rotondo Corse. I motori cominciano a scaldarsi in attesa dell'avvio della stagione. Eh già, oggi qui purtroppo per motivi declici non potevo esserci, però grazie al mio team e dei ragazzi che mi seguono ci sono riuscito veramente, hanno creduto in me e siamo qui per ora. Speriamo in un finale di gloria, speriamo, perché gli avversari ci sono come possiamo vedere e quindi incrocio le dita.